Dove andiamo oggi? A Punta? A Punta? No, aspetta, non so dove andiamo. Andiamo a Punta Pineda. Punta Pineda, siamo verso le Cinque Terre. Ok. Sei pronta? Sì, sì, adesso proviamo. Dai. Tiero parte da qua, giusto? Da questa osteria lungo la strada. E si va giù, giù, giù. Andreno secato, avrai video. Allora, siamo arrivati, giusto? Come ti sembra? Sembra... Bello? Molto bello. Ci sono piscine naturali. Sì, 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 sì. quando è morto è morto piaciuto? si molto bene ora si torna su però si peccato che non abbiamo fatto bagno la prossima volta com'è? guarda che posto panorama allora ti è piaciuta la camminata? è stato breve e facile si? si bello si bello salutami tutti ciao ciao